Radici Trentine dirige il maestro Enrico Montanari. Grazie. 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 Il prossimo brano, come già annunciato, si intitola Atropos, di Kevin Coomben. Atropo era una delle tre moire, le figlie della notte o, secondo un'altra versione di Zeus, che personificavano il destino ineluttabile. Atropo, la più anziana delle tre sorelle, colei che non si può evitare, raffigura il destino finale dell'individuo, poiché a lei era assegnato il compito di recidere con lunghe cesoie il filo che ne rappresentava la vita, decretandone il momento della morte. Davanti alla morte, l'uomo cristiano si sente massimamente solo, solo di fronte all'infinita potenza di Dio che lo giudicherà. Il rischio è l'eterna dannazione nel fuoco dell'inferno o la speranza e la salvezza. Nonostante questa lugubre immagine, Atropo è ritratta nella mitologia come una figura positiva. Visto che nulla può alterare il destino di ognuno, occorre approfittare al massimo della vita e delle opportunità che essa ci offre. Con questo brano salutiamo Musica Pelle, la lira di Isime. A voi Atropos dirige il maestro Enrico Montanari. Grazie. 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 Grazie.